Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a questo appuntamento con Portafoglio ETF fatti in collaborazione con Trend Online. Oggi operatività per martedì 30 settembre, quindi vedremo le nostre candele del Portafoglio ETF facendo anche un'analisi finanziaria con l'ausilio degli indicatori Aikinashi. Vi visualizzeremo e vedremo tre indici e tre materie prime con una serie di ETF se in versione longa e se in versione short, fornendo quindi indicazioni operative giornaliere di breve o brevissimo periodo con l'aiuto appunto della visualizzazione delle candele giapponesi modificate Aikinashi. Qui vedete la spiegazione, questi sono i ticker, gli ETF che sono disponibili su borsa italiana che seguiamo nelle analisi grafiche, i sei in versione long su questi sottostatti e i sei in versione short sui medesimi sottostatti, tre indici e tre materie prime. Passiamo alla giornata di oggi, è evidente che stiamo assistendo ad una lateralizzazione di breve perché gli indici fanno più 2% un giorno, meno 2% un altro giorno, il caso dell'Italia è particolarmente evidente senza avere una precisa direzionalità. Oggi dal punto di vista dei dati macro non ci sono state grosse sorprese, tre dati macro tutti sostanzialmente in linea con le attese. Sentimento economia europea 99,9 rispetto a 100, inflazione Germania 0% sul mese rispetto ad un'attesa di meno 0,1 e spese personali Stati Uniti più 0,5% molto vicino alle attese della media degli analisti. Quindi l'epilogo qua vedete è una giornata sostanzialmente negativa che si è andata un po' a rimangiare la positività in particolare per l'Italia di venerdì, meno 1,29 per il nostro indice, meno 0,71 per la Germania, meno 0,18 alla chiusura dei mercati europei. Sull'indice americano l'oro continua a scendere, meno 0,2, mentre prosegue il rimbalzo del breve di petrolio e natural gas con in particolare il secondo. Andiamo a vedere le candele e quali ripercussioni ci sono sulla nostra operatività partendo dall'indice italiano. Eccolo qua, vedete a fronte del meno 0,2 qualcosa di oggi, produce un'ulteriore candela di stabilizzazione. Corpo verde perché c'è stata un'apertura superiore ai massimi di ieri, però comunque una candela di stabilizzazione che non ci dice da che parte sarà il prossimo eventuale trend. Non rimane quindi ovviamente che rimanere ancora in osservazione. Quali livelli importanti sono a questo punto aria 21, 21,2 al rialzo e aria 22,20 al ribasso dove ho segnato con queste trend line. Per cui, osservazione sull'Italia, il DAX fa un'altra candela rossa, vedete comunque comincia a essere sporca perché c'è stato sul finire un tentativo di reazione del DAX che ha comunque fatto noi minimi oggi in giornata, per cui per il momento lasciamo questa operatività ribassista che vediamo subito, eccola qua. Questo è lo strumento che stiamo seguendo, quindi al ribasso sul DAX, codice XSDX che per il momento ci sta dando un più 2,4% dai nostri prezzi di entrata. Mercato americano un po' più dubbio, nel senso che oggi fa un'altra candela di colore rosso, ma vedete sembra più un'ulteriore candela di stabilizzazione. Qua siamo posizionati a ribasso, adesso tra poco vedremo il nostro strumento. Questo è l'ETF che segue l'indice al rialzo, il classico SPX. Dico per cui, situazione di dubbio, perché ancora di fatto sull'indice americano non si è avviato un vero e proprio trend ribassista neanche sul giornaliero. Per quanto ci riguarda, anche grazie, ricordo sempre, alla leva valutaria, la nostra posizione a ribasso sta dando buone soddisfazioni, per il momento a più 3% sul breve, per cui anche a fronte di questa lunga candela verde odierna proverei a mantenere la posizione, ma ai primi tentennamenti probabilmente la chiuderei, anche perché si sta formando sull'RSI una potenziale divergenza ribassista, se questa fosse confermata scendendo sotto questo livello, naturalmente ancora non lo è, per cui rimaniamo in allerta e proviamo naturalmente a mantenere la posizione a fronte di questa candela. Per cui manteniamo le due posizioni a ribasso sugli indici. Passiamo alle materie prime, il Gold aveva fatto la scorsa candela, una candela verde senza coda, ma vedete il trend non sembra essere particolarmente forte, oggi rifà un'altra candela di stabilizzazione che non ci dà ulteriori informazioni. Qua i livelli da monitorare sono 12.09 a rialzo e 11.80-82 a ribasso, supporti veri probabilmente in area 11.67, dove vedete passa questa, per il momento debole trendline rialzista. Bene, quindi passiamo al Natural Gas, Natural Gas che fa un'altra candela verde, ormai la terza e questo ci induce a chiudere la nostra posizione a ribasso sul Natural Gas. Eccola qua, quindi a fronte di questa seconda candela rossa sul nostro strumento, che ricordo SNGA, chiuderemo domani in apertura la nostra posizione ribassista sul Natural Gas. Al momento la perdita è a meno 3,5%, ma naturalmente aggiorneremo il valore vero con l'apertura di domani. Vedete l'indice in generale sta stabilizzando sotto queste resistenze, per cui sembra che quantomeno voglia andare a ritestare i supporti in area 172, quindi da questi livelli abbastanza lontani non corriamo tutto questo rischio e per il momento usciamo dalla posizione. Manteniamo invece quella sul petrolio, che vedete a rialzo fa un'altra buona candela verde oggi, che porta la nostra posizione in guadagno di più 1,5%, questa naturalmente la manteniamo. RSI che si sta avviando verso una zona di possibile ipercomprato, ma al momento non ancora in modo preoccupante, per cui lasciamo il long sul crude oil. Passiamo quindi direttamente al sommario, repilogo posizioni. Per il momento manteniamo i due short sui mercati azionari, anche se abbiamo visto c'è qualche possibilità di rimbalzo da questi livelli, siamo su supporti che sembrano particolarmente forti, in particolare per l'indice italiano, sul quale al momento siamo neutrali. Quindi manteniamo la posizione longa sul petrolio, mentre usciamo al momento su quella dal natural gas al ribasso. Ricordo la possibilità di ricevere segnali operativi in abbonamento su un portafoglio per gestire in autonomia un portafoglio ETF di medio e lungo periodo, tutte le informazioni sulle modalità di abbonamento e sull'operatività su Trend Online all'interno dei servizi premium. Ricordo sempre la possibilità di registrarsi gratuitamente per ricevere ogni domenica analisi tecnica sui principali indici mondiali, sulle principali materie prime, nonché su euro-dollaro. Questo anche per oggi è tutto. I miei contatti sono a disposizione per qualunque approfondimento, chiarimento o suggerimento, perché no, benvenuto. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. A presto!